Pronti per il secondo match della main card all'angolo blu per i 70 kg Enzo Iezzi del team Greci di Bufi Bufi Fai! Fai! A via sforza! Fai! A via sforza! A via sforza! Fai a via sforza! Fa ci fatti! Con quello deve lavorare! Non farla recita col di rete Vai! Grazie a tutti. 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 Dopo venite che c'è un premio speciale per voi, eh? Quando finiscono tutti gli incontri, eh? Una foto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.